Una buona giornata dalla redazione di Florence Multimedia in studio Leonardo Bardazzi. A causa della pioggia prevista in aumento durante la mattinata, si raccomanda prudenza lungo tutta la rete stradale autostradale toscana. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, restringimento di carreggiata tra gli svincoli di Lastra Signa e Ginestra Fiorentina, possibili disagi alla viabilità. Ancora in Fipilì tra Interporto Toscano-Est e Interporto Toscano-Ovest in direzione Livorno, prudenza per la presenza di personale su strada al lavoro. In A1 tra Valdarno e Arezzo ha segnalato un veicolo fermo in avaria in direzione Roma. In A11 tra Firenze-Peretola e Sesto Fiorentino c'è un veicolo fermo in avaria in direzione Pisa. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!